La famiglia è la cosa più importante. Il regista Pintiswood... Non fate come me. Ho anteposto il lavoro alla famiglia. Dirige un film ispirato a una storia vera. Non meritavo il perdono. Questa è l'ultima volta. A febbraio... Per quel che può valere, mi dispiace per tutto. Il Corriere. Dal 7 febbraio al cinema. Allora...